Quasi 3 milioni di euro potrebbero arrivare dalla regione al comune di Castellammare del Golfo per tre grossi interventi all'ufficio tecnico comunale che sorge nell'ex scuola Buccellato, all'istituto scolastico Francesco Crispi e alla scuola Pirandello. I tre elaborati sono stati dichiarati ammissibili nell'ambito del bando su promozione delle coefficienze e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici, con installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Il DDG 448 del 16 maggio scorso consentirà quindi all'amministrazione di Castellammare del Golfo, qualora i tre progetti si posizionassero in graduatori in una posizione utile ad ottenere i finanziamenti, di riqualificare i locali dell'ufficio tecnico comunale con l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per un importo di 838.612 euro, di realizzare opere analoghe alla scuola elementare materna Francesco Crispi in via Genova per un importo ancora superiore 971.337 euro e di ottenere quasi un milione esattamente 996.000 euro per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi di energia primaria in un'altra scuola al plesso Pirandello che sorge in Piazza Europa in zona Petrolo. Gli interventi ammessi a finanziamento ammontano esattamente a 2 milioni 805.430 euro. I tre progetti redatti da professionisti esterni e presentati telematicamente dall'amministrazione guidata da Nicola Coppola alla fine del 2017 vennero però esclusi dal precedente bando per un cavillo burocratico relativo alla firma degli elaborati. Quando la misura venne rifinanziata furono quindi ripresentati con le medesime previsioni tecniche di spesa. Adesso è arrivato il giudizio di ammissibilità e la cittadina del Golfo potrà concorrere ad ottenere circa 3 milioni dei 32 stanziati dalla regione con i fondi Poffesser per l'efficienza energetica. Si attende soltanto il giudizio della commissione di valutazione che esaminate le domande assegnerà i punteggi necessari a stilare la graduatoria.